Sbloccati i fondi per la realizzazione di un nuovo centro di accoglienza per i lavoratori stagionali a Gaudiano di Lavello e si andrà ad aggiungere ai centri già operativi in Basilicata per creare una rete pubblica dell'accoglienza e di contrasto al caporalato. Igor Uboldi. 4,2 milioni di euro ammontano tanto i fondi appena sbloccati dal Ministero degli Interni nell'ambito del piano nazionale Legalità. Soldi che serviranno a realizzare un centro di accoglienza lavoratori nell'area Gaudiano di Lavello. In pratica si tratta di recuperare un sito del borgo della riforma agraria di proprietà della Regione per realizzare 150 posti letto con relativi servizi. Tutto pronto dunque per aggiungere un ulteriore tassello al mosaico della lotta al caporalato? Quasi. Alla Regione spetta ora nominare il responsabile unico e procedere all'appalto. Il nuovo centro di Gaudiano farà parte di una rete di centri pubblici che comprendono anche quello di Boreano, Venosa, di Palazzo San Gervasio e di Scanzano. Per quest'ultimo bisogna però sbloccare la delibera di completamento. In totale ci saranno 700 posti. Per Pietro Simonetti del tavolo nazionale anticaporalato si tratta di un primato. La Basilicata conquista il gradino più alto del podio in Italia, la prima Regione che offre una rete di centri. Un'offerta essenziale per l'economia e per il sociale. Da gennaio a settembre dell'anno in corso in Basilicata sono stati assunti 34.000 lavoratori, il 60% dei quali sono migranti.